Chi c'è nella mia camera? Sarebbe comodo buttare fuori uno così dopo vent'anni. E vedrà. E intanto paghi la retratta. Duemila e cinque. Ho detto duemila ieri e duemila oggi. Sette persone. Sette. Sette persone a carico, padre carità. Quella spera che muoio. Ma io non muoio. Al trenta le butto fuori la valigia. Riceverà lo strato. Secondo lei ci sarà la guerra? Gianni, mi ero Umberto. Stanco. Lungo andrà, signor Umberto. Stai in giro. Sta fermo.